cari amici ben ritrovati sono massimo finciroli di aproma store e come potete intuire dal rumore che sicuramente sentite e dall'ambiente circostante quest'oggi non sono nel nostro studio fotografico siamo in esterni in compagnia di mariano annoni un caro amico con un trascorso da regista scenografo studi di cinematografia ma che oramai da parecchi anni si occupa di fotografia di moda e di advertising lo scopo della giornata lo scopo di questa uscita è quella di testare sempre che ce ne sia bisogno il flash e evencrom e anche quello di fare degli scatti di prova in una location che mariano vorrebbe utilizzare per dei servizi chiaramente di lavoro quindi come ogni buon professionista non lascia nulla al caso ma prima di svolgere un servizio in un posto con delle attrezzature nuove fa un'uscita di prova per controllare che tutto funzioni quindi siamo in esterni flash a batteria elinchrom ci affideremo a ilb 500 ttl flash ttl ma che chiaramente può lavorare anche in manuale in grado di erogare fino a 500 watt secondo di potenza pari a 7 8 volte la potenza di un flash a slitta caratteristica importante per andare a compensare quella che è la luce ambiente qui sicuramente utilizzeremo come luce principale la luce del sole la luce la luce ambiente ma avremo bisogno di andarla a modulare per costruire la luce che mariano vorrà avere nelle sue foto senza accontentarsi della foto ricordo della data dalla luce ambiente con con la sensibilità iso auto della fotocamera mariano ha programmato diversi set diverse ambientazioni pur tutte in una in uno spazio abbastanza limitato però per avere la possibilità di produrre diversi scatti dal sapore anche abbastanza diverso senza doversi spostare troppo mariano vuoi raccontarci qualcosa di più sì in particolare riguardo il background che abbiamo qua abbiamo voluto creare qualcosa di un pochettino anticonvenzionale di solito quando si è in un ambiente naturale si usa la natura noi abbiamo voluto creare una specie di filtro che che crea una specie di ambiente a sé e che aiuta a ritagliare la modella dal dal fondo si continua a vedere tutto quello che c'è di dietro però è come se fosse leggermente sfocato e questo ci permette di vedere soprattutto la modella tirare l'attenzione esattamente sulla modella e non sull'ambiente perché un ambiente così potrebbe distrarre abbiamo usato una luce laterale un 80 centimetri un 70 centimetri di Ellington laterale per aumentare ancora di più il discorso del contrasto e abbiamo però sfruttato anche questi raggi di luce che cadono direttamente attraverso gli alberi che creano questi tagli sul fondale che rendono la cosa ancora più interessante un miscuglio fra fra lo studio e l'ambiente all'aperto dovrebbe venire un risultato abbastanza interessante poi avevi esplorato un altro angolino poco più avanti lungo questo corso d'acqua dove realizzare un'altra ambientazione esatto abbiamo seguito l'acqua abbiamo trovato un gradino dove dove l'acqua scende in maniera abbastanza dolce lì sarà una cosa un pochettino più convenzionale la ragazza sarà seduta nell'acqua ci sarà il movimento dell'acqua perché scatteremo con tempi abbastanza lunghi in modo da far vedere il movimento e flash sempre lo stesso 70 tenuto molto molto basso di potenza perché deve semplicemente sostenere l'illuminazione del viso della ragazza ma non deve essere preponderante rispetto all'ambiente quasi un pannello di schiarita esattamente ecco tra l'altro per l'altra ambientazione mentre qui sistemeremo il flash su uno stativo perché saremo in una situazione abbastanza controllata la invece avremo bisogno di avvicinarci molto al pelo dell'acqua per illuminare la ragazza da vicino quindi monterò il flash ti farò da assistente montando il flash e il softbox da 70 cm deep di Ellingtrom su una giraffa quindi su una boom su un palo estensibile direi che cominciamo a preparare il primo setup luci e facciamo la prima sequenza di scatti con una galetora di acervi e ciccina di opere e tutto No, abbiamo realizzato, anzi hai realizzato gli scatti di questo primo set con il tulle e sicuramente quando te l'ho visto scaricare questa mattina mi sono chiesto a cosa cavolo ti servisse, devo dire che a volte anche dei piccoli accessori possono veramente fare la differenza, ci racconti qualcosa di queste foto? Sì, allora il tulle bianco perché come dicevo serve a staccare di molto la modella rispetto al fondo, in questo caso specifico avevamo anche un vestito nero molto scuro e quindi l'effetto è ancora più forte, luce laterale quindi contrasto molto forte, il viso della ragazza è comunque molto chiaro per cui salta fuori tanto dall'immagine e in un ambiente così sembra quasi che sia stata incollata. L'effetto finale dovrebbe essere veramente molto forte, in più tieni conto che abbiamo scattato con l'85.1.4 per cui profondità di campo ridottissima e quindi ancora una maggiore sensazione di stacco rispetto al piano. Benissimo, allora siamo pronti per spostarci sul secondo set. Benissimo, allora siamo pronti per spostarci sul secondo set. Benissimo, allora siamo pronti per spostarci sul secondo set. Ok, tanto oramai fine giornata, i nostri scatti li abbiamo fatti, possiamo anche tranquillamente approfittare anche noi come ha fatto la modella del fresco di questo ruscelletto, tanto più conciati di così per oggi non si può. Abbiamo concluso anche l'ultimo set, Mariano? Sì, allora l'ultimo set, un pochettino più convenzionale però sempre molto carino, una ragazza con un vestito che richiama i colori dell'ambiente, era sui verdi, sugli azzurri tenui. Una ninfa dei boschi? Esattamente, una ninfa e l'abbiamo messa nell'acqua seduta su un gradino dove c'era questa piccola cascatina che la avvolgeva. Un bel effetto, un po' di controluce che fa vedere l'acqua in movimento e anche lì sempre un softbox da 70, sempre 70. Bassissimo di potenza, solo per illuminare appena appena il viso ma che non deve assolutamente essere più forte della luce d'ambiente. Il risultato è ottimo, la ragazza poi ha questi occhi meravigliosi per cui un colpo di luce leggero per tirarglieli fuori e il risultato è assicurato. Benissimo, direi che dopo questa bella giornata di scatti stupendi in un ambiente tranquillo e rilassante possiamo ritornare verso il caldo e l'affa della città e pensare alla prossima uscita. Grazie a tutti, arrivederci. Ciao. Ciao.